Abbiamo qui con noi oggi il professor De Martin del centro NEXA Internet Società del Politecnico di Torino. Allora, professor De Martin, il Politecnico è una delle università maggiori italiane, però rispetto al panorama con l'estero, rispetto ai paragoni, mostra ancora un po' il passo, deve ancora migliorare su alcuni aspetti. Cosa si può fare nei prossimi cinque anni per una struttura così? Beh, allora, innanzitutto però fare un passo indietro, perché gli scorsi cinque anni sono stati cinque anni molto importanti, però in senso negativo, per l'università italiana e per la ricerca italiana in generale. Perché a partire dal 2008 in avanti la ricerca italiana e il sistema universitario ha vissuto un'epoca senza precedenti di tagli al finanziamento ordinario, di blocco degli stipendi o taglio degli stipendi, di blocco del turnover, cioè tutte le vicende tipiche di quello che ha vissuto la pubblica amministrazione in questi anni, con in alcuni casi aggravamenti specifici per l'università che, secondo le statistiche, che è stato il comparto dell'APA, che in larga parte ha sofferto di più. Allora, questo è molto importante, perché se non capiamo il contesto non riusciamo neanche a collocare il Politecnico, l'università e le altre università piemontesi. Un contesto di grandissima sofferenza. Allora, da questo punto di vista bisogna guardare i prossimi cinque anni con grande, grande attenzione, perché se i prossimi cinque anni non saranno un'inversione di tendenza, chiaramente innanzitutto a livello nazionale il sistema universitario italiano, incluso il Politecnico, incluso l'università, rischiano un collasso. Questo va detto senza mezzi termini. Quindi, guardo i prossimi cinque anni pensando al livello nazionale e chiaramente anche al livello regionale. Alcune competenze sono regionali, quindi mi auspico che il prossimo presidente della Regione Piemonte faccia pressione a livello nazionale, perché cambi la tendenza, e poi che si faccia tutto quello che è possibile a livello regionale per sostenere il sistema universitario, che è molto importante per la nostra economia, presso il diritto di studio, ma non solo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.